bene ragazzi ciao amici di fisherlandia e benvenuto nuovo video oggi vi voglio fare vedere una novità assoluta di casa favorite mi mancava già da un po raccontarvi qualcosa di questa nota azienda e dico subito che avrei voluto mettere come sottotitolo a questo video una cosa del genere una canna che potrebbe andare bene anche per il luccio in maniera provocatoria chiaramente questa è una canna che vi farò vedere da vicino che è una canna assolutamente da luccio è chiaramente da luccio ma la mia provocazione era perché secondo il mio punto di vista poi il tempo ce ne darà ragione questa è una canna che potrebbe anche andare bene da usarsi in mare un po per l'allestimento ma soprattutto per le azioni che ha questa canna per come piega questa canna anche per uno spinning a casting pesante in mare da terra ai grossi predatori usando delle grosse esche in top water per esempio e dalla barca invece per usare delle grosse stick bait pensate un po per chi vuole affrontare questa pesca da rotante direi che questa ad esempio alligator di casa favorite potrebbe andare assolutamente bene ripeto era soltanto un sottotitolo che avrei voluto mettere e non è detto che lo faccia come provocazione perché chiaramente questa è una canna è destinata alla pesca a luccio alligator quindi il nome prende appunto il nome da questo l'alligatore delle nostre acqua dolce quindi il pike quindi pike fishing il luccio quindi questa è una canna pensate prodotta come fa ormai diverse su diversi altri modelli la favorite prodotta esclusivamente per il distributore old capitan italiano in collaborazione con antonio che tutti conosciamo come tony power quindi in collaborazione hanno provato veramente sembra addirittura un paio d'anni che stanno provando questi grezzi una canna assolutamente da raccontare non vi dico altro andiamo a vedere da vicino poi rimanete con noi per qualche consiglio sull'utilizzo sì per l'acqua dolce noto per la pesca a luccio ma direi che qualche cosa di interessante di intrigante lo troviamo anche per il mare ma vedremo rimanete con noi ci vediamo dopo bene partiamo come di consueto dalla custodia di questa alligator come vedete abbiamo la scritta bianca stampata devo dire che mi piace molto anche la trama di questa custodia con questa con questa cucitura verde scuro abbiamo dalla parte opposta la scritta favorit e scorrendo ancora troviamo da questa parte il codice quella che stiamo vedendo in questo momento l'alligator la 61 115 in 120 grammi vi ricordo che sulla scheda tecnica trovate l'espressione di 120 grammi in once quindi andiamo a rotondare questa era 4 once esiste poi la 6 once 180 grammi esiste anche la 8 once 240 grammi ma poi di quello andiamo un po nello specifico a parlarne alla fine del video cerniera molto corta perché come avete capito trattasi di una canna offset mi piace molto questo discorso offset cioè coniugare la potenza anche alla praticità del trasporto quindi abbiamo una tasca lunga per diciamo consentire la copertura della cima completa che sarà la parte più lunga e chiaramente la taschina corta che è quella che vi sto facendo vedere adesso per il manico togliamo a questo punto la custodia ne abbiamo già parlato e parecchio e arriviamo subito alla prima parte quindi questo manico offset ci sarebbero da dire un sacco di cose intanto vi dico che il carbonio di questa canna è in 40 ton quindi assolutamente torai 40 ton lo vediamo poi bene sulla parte che vedete come brilla perché è volontariamente stata una canna non volutamente verniciata e questo mi trova assolutamente d'accordo ritorniamo un secondo al manico troviamo il simbolo qua con una piccola ghiera molto bella e con il simbolo alligator questa parte in eva un eva inutile dire molto rigido molto compatto e molto prensile per ad aiutare appunto la la l'impugnatura di questa di questo manico e favorit qua ha sfaccettato quindi con sei smussature appunto tutta la parte di eva troviamo nella scrittatura la scritta favorita da questa parte la scritta che certifica che la favorita ha fatto questa canna per all capitan arriviamo al punto molto importante abbiamo una placca sea guide in modello alien quindi una placca come vedete molto particolare lascia passare un po da queste parti quasi a far vedere a far valutare bene il fusto di questa canna è una placca che assolutamente non impegna il diametro della canna stessa questa placca che subito mi ha lasciato un po perplesso perché perché l'estetica di questa canna passatemi il termine non me ne voglia favorite è un po plasticosa in realtà su una canna del genere mi devo ricredere ho provato a montare qualche mulinello rotante di grosse di medie grosse dimensioni quindi mulinelli rotanti che potrebbero andare bene per questo tipo di pesca e devo dire che fissa molto bene anche se la ghiera è diciamo in polimero su polimero quindi si avvita non ha la stessa fluidità del metallo devo dire che chiude molto bene abbiamo addirittura anche la ghiera di sicurezza insomma devo dire che è una placca che mi piace mi piace molto questa parte che va poi a terminare a far terminare appunto questa questo manico offset che poi accoglie il nostro primo elemento prima ed unico elemento con questa ghiera in verde satinato mi piace molto anche l'estetica la cima la cima in questo caso è composta da otto anelli partiamo subito dalla base troviamo questa parte dove il materiale è stato rettificato semplice la scritta in questo caso alligator vedete questo è l'innesto che va all'interno del manico devo dire un innesto molto preciso non lascia tanto spazio lascia il giusto spazio qua chiaramente il codice che abbiamo visto anche sulla custodia ma troviamo anche le caratteristiche tecniche ve li ripilogo velocemente sei piedi a dieci sei piedi a undici a dire la verità due metri dieci di lunghezza quattro once per cento venti grammi arrotondando e qua qualche consiglio chiaramente sul piede da utilizzare azione fast arriviamo alla prima parte molto interessante in questo caso è l'anello sea guide perché favorit avrà utilizzato un anello sea guide che il nome stesso dice tutto quindi un anello in acciaio che assolutamente è anti salsedine con una pietra molto molto piccola incastonata come favorit ci ha già abituato addirittura anche sulle canne tipo le arena da trautare anche poco centrano con l'azione di questa ma un anello con una pietra molto 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 diciamo sottile molto composta con questa inclinazione verso l'avanti insomma mi piace anche in questo caso l'anellatura trovo giusta anche la misurazione dell'anello andiamo avanti ancora questo carbonio torai 40 ton si sente e si vede noi lo conosciamo molto bene gli addetti ai lavori e di vecchio stampo lo conoscono molto bene chiaramente anellata con otto anelli tutti doppio ponte con questo puntare abbastanza maestoso con questo sempre rinforzo e la pietra sempre incastonata devo dire che è una canna da 120 grammi ma non sto facendo assolutamente nessun tipo di fatica a piegarla il montaggio di questa canna devo dire fatta molto bene definendo poi anche l'estetica quindi con questo nero semplicemente lucido ma anche se è molto semplice se una legatura è fatta bene e si utilizzano buoni materiali si vede assolutamente subito a questo punto l'abbiamo vista da vicino andiamo a parlare un po dei modelli che ci sono e qualche consiglio appunto su questa alligator della favorite bene partiamo subito dai pregi di questa alligator cioè da quelle cose che mi sono piaciute di più chiaramente prima però come faccio di solito vi invito a continuare a seguirci a iscrivervi al nostro canale youtube ed attivare le notifiche per noi questo è veramente importante grazie a tutti torniamo ai pregi di questa alligator innanzitutto mi è piaciuto l'allestimento mi piace e trovo giusto l'utilizzo del carbonio 40 ton torai 40 ton di altissimo livello mi piace la scelta la scelta dell'anello sea guide perché comunque è un anello che ha delle caratteristiche anche anti salsedine qualora la volessimo utilizzare anche in mare mi piace anche l'utilizzo e la fattura di questa placca effettivamente come estetica forse a una prima vista la prima analisi mi sarebbe piaciuto qualcosa magari un po più di fantasioso ma questo questa parte minimal mi aspettavo che scricchiolasse un pochino questa placca montando magari un rotante da casting come questa cana si merita di grosse medie grosse dimensioni invece devo dire che serve benissimo quindi lì mi sono dovuto ricredere al di là della parte estetica che è assolutamente diciamo personale quindi tutto mi piace mi piace leva mi piace la parte in fondo così sagomata mi piace tutto soprattutto mi piace l'azione però di questa cana cioè il cuore pulsante e qua probabilmente devo dare un merito a all capital ma soprattutto a tony power per questo lavoro che ha fatto in simbiosi appunto con all capital mi sembra di capire che qua dietro ci sia un lavoro fatto a dovere per due motivi vi dico questo prima di tutto è difficile trovare canne con queste grammature vi ricordo che ci sono due canne che sono 4 11 120 grammi la terza canna quindi già una 2 metri e 38 quasi una 2 metri e 40 che è a 180 grammi e la 2 metri e 44 quindi sempre 2 metri e 40 circa che è 240 grammi solitamente si trovano canne molto sorde molto ignoranti questa canna ne ha di ignoranza ma ha un'azione che mi piace tantissimo insieme alla leggerezza e al bilanciamento imbarazzante di questa canna vi devo dire la verità ne fa una canna che secondo il mio punto di vista non avrei mai pensato di parlare così bene di una canna così ignorante quindi una canna così pesante chiaramente è una canna che è studiata per la pesca a lucio quindi per l'utilizzo di grosse esche grossi shad swing bait di grosse dimensioni molto pesanti ma la cosa bella è che anche la 240 grammi mi dà l'idea che se usata con esche molto sottodimensionate rispetto a quello che è l'azione massima della portata massima di questa canna possa andare bene quindi rimane un'azione dolce io spero che possa passare quello che voglio dire quindi una canna con un'azione così dolce ma così prepotente probabilmente sull'utilizzo delle esche e sulla pescata e sulla ferrata del pesce fanno sì che la canna sia pronta sulla ferrata fanno sì che l'artificiale muova bene ma soprattutto che la canna vada a copiare poi quello che è il pesce in combattimento voglio sprecare due secondi di numero se riesco perché voglio farvi capire il perché questa canna avrebbe da me dichiaratamente un posto privilegiato nelle canne da casting per la pesca in mare chiaramente brutale pesante la prima che mi viene in mente alla pesca dalla barca le caratteristiche di questa canna è di essere due metri e quarantaquattro oltretutto intelligentissima quindi un altro applauso un altro applauso perché la questa canna è offset quindi è importantissimo avere una canna del genere perché la trasportabilità sulla due metri e quaranta e passa inizia a diventare un problema per molti quindi mi piace questo discorso mantenendo chiaramente la pulizia dell'azione del monopezzo quindi azione e pesca in mare sulle mangianze una due metri e quarantaquattro ragazzi ha già una bellissima azione una già una bellissima lunghezza che ci dà la possibilità di fare anche distanza senza nessun tipo di problema utilizzando delle stick bait veramente importanti quindi perché no una pesca al tonno una pesca all'alletterato la vedo bene proprio per l'alletterato e quindi quello è una pesca da terra da una scogliera usiamo spesso delle due venti due trenta quindi la due quaranta se la porta a casa tutti magari nella centoventi grammi quella un po più corta c'è quella un po più lunga delle due corte diciamo così potrebbe andare bene per esempio per l'utilizzo di qualche artificiale in top water per qualche leciame di grosse dimensioni per qualche giusto alletterato che si avvicina sotto costa mantenendo comunque un buon casting di lancio in distanza insomma una canna bilanciata leggera comoda da portare perché è offset ben studiata ben allestita ragazzi questa canna che così pesante come grammatura prende comunque per quanto mi riguarda un 8 e mezzo 9 tutto perché non arriva a dare un 9 pieno o come dico di solito un 9 e mezzo perché forse forse esteticamente questa placca l'avrei mantenuta così perché mi piace davvero ve lo dico davvero mi piace serra benissimo questa placca però un colore che avesse un po mascherato questo polimero dentro tutto questo 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 questa parte black questa quasi total black di canna mi sarebbe forse piaciuto un pelino di più ma è una questione soltanto estetica quindi prendete quello che vi dico così giusto come se fosse un discorso da varre il voto ve l'ho dato la qualità ve l'ho data vi devo dare ancora quello che è il prezzo di questa canna lo trovo giusto 250 euro credo nel momento che uscirà questo video adesso non so precisamente ma più o meno quello sarà il costo di questa canna se valuto il materiale lo studio l'allestimento devo dirvi che anche il prezzo non è poi così sbagliato capendo però che non è una canna economica però vi devo anche dire una cosa e quando facciamo delle pesche così selettive che possono essere pesanti ma possono essere anche ultra leggere è importante che una canna mantenga un'azione un materiale e di un certo tipo per avere poi la facoltà sì di muovere bene l'esca ma anche poi di combattere bene un pesce quindi in questi queste nicchie perché di questo si tratta andare troppo a risparmiare su alcuni materiali sarebbe sbagliato quindi con questo volevo dire anche il prezzo non lo trovo così esagerato bene ragazzi spero che questa recensione vi abbia fatto piacere chiaramente questa alligator credo che la vedrete anche in qualche pescata in mare perché voglio provarla assolutamente in mare inutile dire che per l'acqua dolce e quindi per il nostro amico lucio deve essere veramente qualcosa di eccezionale vedremo di andare a provare anche in quel caso quindi grazie a tutti per essere stati con noi continuate a seguirci sui nostri social iscrivetevi al nostro canale youtube e attivate le notifiche a questo punto io e la alligator di casa favorite vi salutiamo anche in questo caso favorite accentrato vedi favorite quando esce non sbaglia quasi mai ma gli diamo una mano anche noi italiani a questa favorite come vi diciamo noi che la pesca sia con voi ciao 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 ciao